Nel giro di un mese probabilmente partiranno i lavori su una via importante, turistica di Roseto e gli Abruzzi, parliamo di Via Taulero. Il bando di gare è stato pubblicato la scorsa settimana, 30 giorni di tempo per presentare le offerte, quindi poi si procederà subito all'apertura delle buste per trovare la ditta giudicataria. Quindi confidiamo entro il mese di ottobre di far partire i lavori in maniera tale che il prossimo anno avremo una via sicuramente più bella che partirà dalla collina con via Latini per arrivare fino a lungomare Celomi. Infatti il progetto prevede anche, oltre alla pavimentazione, nuova illuminazione con un nuovo arredo urbano sulla parte mancante di Via Taulero. Andremo a mettere l'illuminazione anche nella parte compresa tra la ferrovia e la via nazionale e in più provvederemo a collegare questa nuova opera con il lungomare Celomi attraverso un attraversamento pedonale rialzato e quindi faremo un tutt'uno con il tratto già esistente. Anche perché parliamo di una via, di una strada che per Roseto soprattutto nell'ultimo periodo è diventata veramente molto trafficata anche a livello turistico? Infatti non a caso abbiamo voluto posticipare l'inizio dei lavori e quindi anche la gara da prima dell'estate a subito dopo l'estate. E' stata proprio una scelta lasciare questa via libera dai lavori anche nel mese di settembre per permettere a tutti gli esercenti di poter continuare a lavorare fuori se il bel tempo persiste. Per cui il tutto inizierà in autunno e cercheremo di finire i lavori quanto prima anche perché il cronoprogramma prevede circa due mesi di lavoro. Ecco poi stando all'aperto dobbiamo fare i conti anche con le condizioni meteo. Comunque sicuramente per la primavera via Taulero sarà pronta e quindi avremo un nuovo look per questa via e anche un ingresso sicuramente diverso, più bello dalla nazionale al mare.